Alessandro Verre, partiamo dall'inizio. Un bambino che scopre la bicicletta. Sì, ho iniziato da piccolo quando avevo circa l'età di 10 anni, da G5. Inizialmente ho corso con varie società della mia zona, in Basilicata, per poi arrivare ad oggi a correre con Clemente la CPS. Che ricordi hai di queste prime gare da bambino? Beh, inizialmente era tutto un po' strano. A me piaceva andare in bici, però non sapevo cos'era il ciclismo. Poi successivamente ho passato nelle categorie sordine d'allievi, ho praticato soprattutto il ciclocross e la mountain bike, mentre su strada la praticavo più che altro solo come allenamento e senza forzare nell'ottenere risultati importanti. E poi da Junior's primo anno mi sono trasferito qui su strada. Alessandro, riavvolgiamo un attimo il nastro, però. Tu hai conseguito un risultato straordinario, correndo con una squadra piccola. Dal profondo sud tu hai vinto un campionato italiano di ciclocross contro le corazzate Lombarde e Venete. Sì, è stata un'esperienza che di sicuro non scorderò mai. Il duro lavoro ripaga sempre e tutti i sacrifici sono stati dimostrati. Vincere quel campionato italiano a Silvele di Trebasele è stato per me qualcosa di unico. Poi, nello stesso anno, a luglio, ci siamo rifatti con il campionato italiano di mountain bike in Val di Casies. Di sicuro sono stati i risultati più importanti che ho conseguito in quell'anno. Ecco, qui diciamo tu nasci come biker. Cosa ti piace del fuoristrada? Il fuoristrada in generale è una disciplina un po' diversa rispetto alla strada. Su strada si corre molto di più con la tattica, mentre sul fuoristrada sì la tattica aiuta, però in un certo senso il più forte vince. Bisogna sempre portare la bici, avere tecnica, avere forza e bisogna essere preparati a tutto. Chi era il tuo idolo quando eri bambino? Ma vedendo un po' la televisione, un po' Sagan, Nibali, che anche loro vengono dal fuoristrada. Arriviamo a un momento fondamentale della tua vita. Clemente Cavaliere decide di investire su strada in quello che fondamentalmente era un biker, Alessandro Verre. Sì, Clemente ha creduto in me fin dal primo momento e assieme a lui anche i direttori sportivi Pasquale Santore e Maurizio Caposella e niente, ci ritroviamo ad oggi. È iniziato tutto un po' come per scherzo, no? Io dovevo fare esperienza lo scorso anno quando ho iniziato con loro e invece oggi ci ritroviamo, ci siamo ritrovati così. Al primo anno, quando ti sei approcciato alla strada, che risultati ti ponevi? Cosa ti aspettavi? Io volevo semplicemente fare esperienza, non avevo mai corso su strada seriamente, quindi non sapevo come ci si doveva muovere, come mi dovevo comportare. Poi era un po' strano anche la distanza, la nuova squadra che era lontana da casa. Però i primi risultati si sono visti, comunque ho ottenuto già nel primo anno due vittorie in Toscana e una convocazione nazionale. Quest'anno è stata una stagione straordinaria. Qual è la vittoria a cui sei più legato? Sì, è stata una bella stagione fino ad ora e come vittoria non ci sono vittorie particolari a cui mi sono legato, però tutte sono state frutto di un grandissimo lavoro di squadra. Infatti senza i miei compagni tutte queste vittorie non sarebbero arrivate. Adesso il salto di categoria, vai a correre in un team prestigioso? Sì, penso anche questo sarà un po' come l'inizio dello scorso anno con la CPS, quindi cercherò di impegnarmi al massimo e fare esperienza. Quali sono le tue caratteristiche? Credo di essere uno scalatore e quindi di andare forte in salita. Ma dove pensi di poter ancora crescere? Questa è una bella domanda, sinceramente non so. Alessandro, chi è il tuo idolo adesso? Un po' Clemente che mi ha aiutato molto in questi due anni. Ci sono degli atleti, come stavamo dicendo, che vengono dal fuoristrada e stanno facendo cose straordinarie. Pensiamo a Matteo Van Der Poel, sicuramente per te è un punto di riferimento. Sì, anche quest'anno quando ho fatto il ciclocross, dove sono stato agli europei, l'ho visto correre ed è qualcosa comunque di spettacolare assieme a Van Aert. Sono i due talenti che di sicuro in futuro daranno spettacolo. Alessandro, i tuoi interessi al di fuori del ciclismo? Per quest'anno finire la scuola e poi... Qualche hobby? Sì, andare in bici oppure... Alessandro, cosa ti ha insegnato la bicicletta? A fare molti sacrifici e che con il duro lavoro tutto è possibile. Alessandro, cosa ti ha insegnato la bicicletta?